Ciao ragazzi qua è HeddaTV e oggi siamo in un nuovo video di Clash Royale Da un po' di tempo che non faccio video su Clash Royale E niente, ve l'avevo promesso, adesso oggi faremo lo spacchettamento di bauli Ragazzi, vi volevo lasciare due bauli giganti Volevo andare alla ricerca del baule super magico Ma dato che ci voleva altro tempo abbiamo detto Facciamo questa cosa, ho già trovato il baule leggendario Apriamolo con 6 gemme, che sia ne importa E poi nel prossimo video di Clash apriremo il baule della corona Scusate se sentite qualcosa Il baule della corona E che, niente, sono due sconfitte su 3 vittorie Quindi ho fatto 5 vittorie in totale Ma passiamo ad oltre Adesso andiamo sul baule omaggio Speriamo di trovare una leggendaria Sicuramente una leggendaria la troviamo perché è nel baule leggendario Ma sul baule magico speriamo di trovare Beh, andiamo, dai, dai, dai Arena 9 2611 trofei Ok, e niente, tutti questi sono di arena 9 Tutte le cose, anche pure un baule gigante forse di arena 8 Ma tanto nei baule giganti non si trova niente Iniziamo Allora, 86 di oro Un golem di ghiaccio Sette lapide Raga, iniziamo Eh, sì, quella è la leggenda Andiamo 670 di oro 14 pipistrelli Un'epica 165 E 44 Capanna di barba Un'epica Ci mancava Andiamo 670 di oro Sono emozionato per aprire il baule magico Tanto non si troverà niente Ma il baule leggendario È il baule leggendario È il mio primo baule leggendario Che apre, attenzione Una furia 160 tesla Ed adesso E 45 Torri infernali Possiamo migliorarcelo Adesso Andiamo Con il baule Magico Sono gasate 1050 di oro 19 goblin Dai, alto Quale comune? 30 Vai Ok Devo aver finito le comune Vai, grande Ok, una comune azione Un Tre Varili goblin Cavolo E adesso Come per ultimo Lasciate un bel like E iscrivetevi Gemme che sono poche 109 99 centesimi Quindi 110 euro Sono tantissimi Ok È il momento 5 gemme 5 gemme Prima erano 6 Vabbè Anche prima erano 7 Quando ho visto Vabbè Andiamo Quanti erano leggendari Qualche sia Scrivete sotto Scrivete sotto nei commenti Adesso Stoppate il video E scrivete Cosa troveremo In questo Baule Leggendari Raga Io spero di trovare Il principe nero Io lo spero Scrivete sotto O se no Io ammazzo Dovete scrivere sotto nei commenti Cosa troverai Hashtag E poi mettete Il nome della leggendaria Bug Così 1264 mortali Così Vabbè Siete voi i primi a guardare Cosa uscirà No anzi Voglio guardare io da sola Tanto troverò una merda Di merda E niente Minatore Minatore Potenziamoci Stanzette Vabbè Potenziamoci Il buccio Potenziamoci Potenziamoci Minatore Trovato Il mastino Ah Potenziamocelo anche Vedrete anche Il potenziamento Del mastino Live Livello 2 Il mastino Ragazzi Questo video Finisce qua Vi dico solo Che noi abbiamo Un botto di leggendaria Abbiamo questa 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 E in tutti i video Vi ho fatto vedere Il leggendario Che ho avuto Questo leggendario Avete visto Andate sotto Lasciate un mi piace Se non avete ancora visto Il video Che ho fatto prima Dove abbiamo trovato Il leggendario Avrò aperto migliaia Migliaia di Di bauli Avrò trovato Tantissimi leggendari Migliaia di Bauli leggendari Migliaia Anche ve lo ricordo Nel baule del clan Avevo trovato Lo stregone elettrico E andate a vedere Se non avete ancora visto Quel video Ciao ragazzi Qua è da tv Abbiamo trovato Il minatore Voglio che arriviamo A 5 like 5 like